Allora amici, buongiorno a tutti, non so se mi sentite, oggi è venerdì 17, un auguri a tutti gli amici superstiziosi, siamo qua in via Esmerionis dove ieri è successo il danno dell'acqua, potete vedere i tecnici del comune in opera, l'acqua che esce fuori, il traffico è sempre bloccato, hanno riaperto il traffico pedonale, potete vedere lì le persone che passano, questo presumibilmente è la condotta, diciamo questa presumibilmente è la condotta che si è guastata, che si è rotta e quindi sarà oggetto di sostituzione, non so se mi avete sentito perché ci sono rumori delle pompe, quindi i lavori procedono alla grande, è pieno di tecnici di Abanoa e il traffico pedonale riprende, potete vedere da qui, il traffico è ancora bloccato, ciao da Andrea, seguitemi, iscrivetevi sul mio canale e al prossimo aggiornamento, ciao a tutti!